Il prefetto di Pescara, Gerardina Basilicata, va in pensione. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, la Basilicata entrò in servizio nell'amministrazione civile dell'interno nel 1982 e successivamente fu trasferita alla prefettura di Caserta e poi a quella di Napoli. Nel 2010 la nomina a prefetto e nel 2017 fu inviata a svolgere il ruolo per la provincia di Pescara. E ora, all'età di 65 anni, si ritirerà in pensione. Ringrazio le autorità religiose, politiche, delle forze dell'ordine e degli organismi imprenditoriali, ha dichiarato in una commossa lettera. Mi congedo dall'amministrazione dell'interno alla quale resterò sempre legata con sentimenti di profonda riconoscenza.